ciao a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video cosa facciamo oggi adesso andiamo a fare una survival nella nuova versione 1.13 abbiamo fatto la skyblock che purtroppo il primo l'ultimo episodio mi sono dimenticato di registrarlo cioè ho registrato senza la fine quindi vabbè comunque ok allora ho visto un paio un attimo vado un attimo vediamo un paio i commenti scusate mi sono arrivati in questo istante la una era già da ferrari il primo era nascita farfalla momento amnesia non mi ricordo mi sembra che fosse stato il secondo adesso controllo per sicurezza il primo joseph era quello che ho fatto e ricordavo bene giusto poi il secondo è gabrie fai un video reazione a questa reazione ti dico subito che non ha senso fare una reazione a questa reazione continuare in group perché non c'è non ha letteralmente senso pesiamo 1.13.2 quindi che sapete come funziona tra fintevole materiali comunque per questa nuova serie ho un sacco di progetti in mente qui sono le pecore cioè raga non sono riuscito a fare neanche questo salto figuriamoci sul parkour che dovevo fare allora mi sarebbe tutte le zucche delle zucche queste mi servono cioè raga abbiamo cominciato bene io ve lo dico sarebbe fantastico avere quello lì esatto volevo proprio quel piccolo bioma rappresentato da questo tipologia fa pientata questa roba da queste montagne perché anzitutto la sopra che è fortissima quella montagna di giocare nel casa nostra facciamola qui possiamo andare a costruire a parte che c'è un altro che non gigantesco quindi sicuramente qua sotto a qualche parte c'è una mine shaft comunque una roba che devo fare mi scegno il punto la un bel pillar di zucca con sopra ecco allora va beh non importa cominciamo legna crafting table un paio di stick c'è un table c'è una spada in legno un ascia poi la abbiamo anche il deserto quindi possiamo farci anche la farm ciao poi mettendo la lana tanto la sopra ne avevo questa altre due e ci facciamo subito a manetta un letto vediamo se possiamo farlo rosso ovviamente c'è ferma il colorante ok letto rosso ma allora vi dico cosa avevo in mente però non neanche lo sa che va bene i dettagli allora sarà un po complicato però praticamente volevo andare a creare tipo un mega castello la sopra e la sopra magari o la oppure addirittura con un ponte che collega dalla qui ali e ci faccio le varie parti del castello dove poi andremo qua c'è già una cannata di zucchero che ci prendiamo ok collezionata cannata di zucchero già raga è pieno di canyon qua ve lo dico eh raga dobbiamo salire la sopra dobbiamo salire la sopra non ho idea di come faremo comunque qua ci sono pecore c'è deserto a perdita d'occhio ragazzi abbiamo pure un relitto vicino a casa quindi tenetelo veramente perché già raga questi erano i salti cioè io non riesco a fare questi salti figuratevi a fare quelli del parkour quindi ho bisogno di un piccone ho bisogno di un piccone paparapapampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Cioè ragazzi ma guardate che vista che abbiamo qua Apposito che dove era l'albero Ma voglio dire un attimo C'era una spiazza da qua Subito progresso sogno d'oro Quindi abbiamo dormito abbiamo settato lo spawn E abbiamo eliminato tutti gli eventuali mob che c'erano Ma guardate che roba fantastica Deserto, deserto Qui abbiamo un relitto E abbiamo altre queste montagne Che là peraltro Siamo più alti delle nuvole Probabilmente farò la zona del nether Andando a chiudere un po' Creare una struttura tipo un vecchio tempio Perché è la baia Così c'è il vecchio tempio dove c'è il portale Poi Fatevi un attimo aumentare il render distance Che voglio vedere bene cosa c'è Fatto Ok la c'è deserto Ancora troppo poco raga Aumentiamolo di più Nuvole le togliamo Ok che se no non vedo niente Ok la c'è un'altra isoletta Quindi la potrebbero esserci Le barriere coralline Non avremo problemi di vetro Sabbia e robe del genere Raga là c'è un villaggio Abbiamo un villaggio vicino Quindi possiamo Fantastico Lì c'abbiamo la pianura Ragazzi ho messo benissimo Ok Allora Diciamo che l'idea Ce l'ho in mente di come fare Adesso inizierò A Prepararmi tutto il materiale Magari a buttarmi giù un primo progetto Magari con la terra Oppure a iniziare a costruire qualcosa In pietra se riesco Giusto da fissare un paio di punti Per riuscire anche a poi A lavorare meglio Per non cadere di sotto E Nel prossimo video Vediamo come andare avanti E cosa è successo Ok Quindi io vi ricordo di Commentare Condividere Iscrivervi E lasciare tantissimi like E condividere a tutti gli amici E farli iscrivervi al canale E Vi lascio qui su tutte le stelle Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti.